Salve, nel contributo di quest'oggi parleremo di uno dei più grandi testi teatrali del Novecento, soprattutto di uno dei più grandi drammaturghi del XX secolo. Parleremo infatti dell'Uomo Massa di Ernst Thuller, che fu scritto tra il 1919 e il 1920, pubblicato proprio nel 1920. Intanto, chi era Ernst Thuller? Ernst Thuller, come molti forse sapranno, è stato, come abbiamo detto Pogazzi, uno dei grandi scrittori tedeschi dei primi del Novecento, insomma della prima metà del XX secolo. Lui era nato in realtà in Polonia, a St. Mocin, questa piccola località che però all'epoca faceva parte dell'impero brussiano nel 1893, dopo aver provenito da una famiglia ebraica, e infatti dopo aver studiato sia in Polonia e poi successivamente anche in Francia, partirà volontario per la Prima Guerra Mondiale, dopo lo scoppio del conflitto. In realtà, come sa poi, l'esperienza della guerra lo cambierà profondamente, perché vedendo ovviamente gli orrori della trincea, la morte di molti dei suoi amici, comincerà poi a prendere parte, a schierarsi e a assumere posizioni molto diverse, chiaramente, non che fosse un attivista, nel senso appunto che fosse schierato per la guerra, però probabilmente anche spinto dall'entusiasmo giovanile, più che altro anche dall'idea stessa di difendere la patria, di difendere la Germania, è entrata in guerra con quello spirito che poi chiaramente cambierà di lì a poco. Tra l'altro, proprio durante il periodo del conflitto, conoscerà molti grandi letterati, che tra l'altro tedeschi, sarà amico di Rilke, sarà molto amico di Thomas Mann, che infatti leggerà addirittura anche, farà un bellissimo discorso, un commiato proprio al funerale di Truller, e successivamente, alla fine del conflitto nel 18, con la sconfitta anche della Germania, prenderà, assumerà posizioni, tendenzialmente potremmo dire così, soltanto pacifiste, come avevamo detto, ma anche comuniste, cioè si schiererà praticamente a fianco, diciamo, dell'ideologia marxista, si schiererà proprio rettamente dalla parte dell'ideologia marxista, in maniera abbastanza aperta. Per quanto poi in realtà vedrà anche gli esiti della rivoluzione bolscevica, ovviamente che erano appena sopraggiunti, via poco, nei 17, come sappiamo, e però comincerà anche a distaccarsi da quella tipica attitudine, ovviamente, del rivoluzionario, che a partire poi, come sappiamo, tra il 19 e il 21, il Vienno Rosso, che sconvolgerà praticamente tutta l'Europa, era praticamente un po' così la parola d'ordine di quel periodo, di quel momento storico. Infatti, proprio a causa di questi avvisodi, di questi avvenimenti, che Teller proprio nel 19 comincia a scrivere quella che forse è la sua opera più importante, ossia l'uomo massa, come abbiamo detto poc'anzi. Masse Menusk, ovvero in tedesco appunto, nel 19. Quest'opera, tra l'altro, importantissima, che non è neanche suddivisa nei classici atti, ma in sette quadri, proprio perché sono sette scene, potremmo dire, così molto distaccate, i personaggi sono praticamente, potremmo dire, dei fantocci di carta, perché non sono, sono chiaramente le figure della società di massa, figure appunto delle guardie, gli operai, i classici imprenditori, la figura anche delle figure dei banchieri, degli industriali, di tutte quelle grande, dei borghesi, insomma, sono quei classici, quegli archetipi, potremmo dire così, quelle funzioni simboliche che poi nel Novecento hanno caratterizzato lo sviluppo stesso della società. Non è un caso che infatti i personaggi di questa pista teatrale, di quest'opera, non abbiano un nome. In realtà poi ci sono due protagonisti fondamentali, che sono appunto la figura di questa donna, che non ha un nome appunto, è chiamata semplicemente la donna, che è ispirata probabilmente ad un'amica dell'autore, questa Sara Sonia Rabinoviz, che era stata come un attivista, anche che era morta in carcere durante proprio quel periodo lì, una pacifista, e la figura, tra l'altro, interessantissima dell'uomo senza nome. L'uomo senza nome, appunto, è l'uomo massa, è appunto colui, è l'impersonificazione stessa, potremmo dire così, in realtà della massa, ma più che della massa, dell'ideologia, del pericolo stesso dell'ideologia, come abbiamo più volte anche sottolineato in questi nostri contributi. Perché che cosa succede in realtà nel Novecento? Nel Novecento i drammi ovviamente della modernità, ossia troviamo questa condizione, come viene descritta inizialmente, di questi operai affamati durante il periodo chiaramente della guerra, che sono costretti a fare una vita terribile, dove potrebbe, infatti, essere la condizione molto simile a quella della Russia, ovviamente che abbiamo già descritto, ad esempio, quando abbiamo parlato del romanzo di Tringale, ve lo rivolta, ma anche la condizione che in qualche modo accomunava le masse europee, il proletariato, potremmo dire così, di tutta Europa, dell'Europa occidentale, ma anche orientale, come abbiamo visto, a partire dagli inizi del Novecento, dove gli operai, praticamente, troviamo questa classe operaia, sempre più sfruttata, sempre più indebolita, questi operai che un tempo erano la classe, quella del, diciamo così, del sottoproletariato, ossia la classe contadina, che sono state, praticamente, ormai espropriati della propria terra, erano lo stesso, infatti, non è un caso che i protagonisti, i personaggi, anche degli operai, parlano sempre in coro, non ci sono mai, c'è il primo operaio, il secondo operaio, il terzo operaio, ma generalmente i discorsi, quando la massa parla, è sempre un parlare per slogan, o comunque un parlare attraverso un'azione corale, quindi in questa opera è fondamentale anche l'azione delle scenografie, ad esempio, della messa in scena, un'opera estremamente elaborata, per quanto poi in realtà sia molto breve, è un testo che si legge nel giro di una mezz'oretta, volendo di 40 minuti, dialoghi molto serrati, utilizza anche uno stile estremamente quasi d'avanguardia, il tipico stile anche futurista, nel senso che sono anche battute molto ritmate, e anche con quel tipico stile che, come abbiamo visto, era presente ad esempio in Marinetti, in Palazziski, in tanti grandi scrittori dell'epoca, non è un caso, come detto, è un testo del 19 questo, che anticipa però alcune soluzioni che poi troveremo anche nell'espressionismo tedesco, questo è un testo detto che ha influenzato moltissimo un Thomas Mann, che ha influenzato tanti grandi autori poi dei decenni successivi, purtroppo è un testo che oggi non viene come sempre, d'altronde quasi mai citato, che poi in realtà anche il termine uomo-massa è stato probabilmente, non dico coniato ovviamente da Ernst Stoller, ma è diventato anche, diciamo così, questa parola, questa terminologia, che va quasi praticamente, che è quasi correlata a queste due parole che sembrano staccate, perché in realtà l'uomo è una cosa, la massa è un'altra, ma in realtà è proprio, nel Novecento si delinea quella coscienza collettiva di un uomo che ormai non è più se stesso, che appunto diventa una massa, diventa anche la figura stessa di una classe. Infatti non è un caso, come ho detto poc'anzi, che troviamo in questa Europa dilaniata anche dal conflitto bellico della Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, ha distrutto praticamente tutte quelle categorie, diciamo così, che ancora della vecchia borghesia, quelle categorie culturali anche etiche, anche di un certo tipo di far politica, che poi chiaramente dopo la Prima Guerra Mondiale verranno completamente cancellate, e poi verrà appunto poi nel Novecento, è un caso che poi nel XIX Mussolini fonderà a Milano i fasci di combattimento, nel XVII ci sarà la rivoluzione bolshevica, poi in seguito, come sappiamo, arriverà anche il nazismo, e tutto quello che la storia ci ha chiaramente lasciato, ci ha come testimonianza. Queste masse affamate si aggrappano chiaramente poi a che cosa? A voler ribellarsi a questa situazione. Infatti troviamo il personaggio della donna, di questa donna straordinaria, come sempre, il personaggio femminile di una nobiltà. Troviamo infatti queste due figure che poi Ernst Huller praticamente descriverà in quasi tutte le sue opere. Da una parte c'è l'uomo etico, l'uomo colto, potremmo dire di così, l'uomo di cultura, l'uomo umanista, che è appunto rappresentato dalla donna, che vuole sì, chiaramente, sicuramente un membro anche, si capisce, della vecchia burghesia, che comprende anche la sofferenza del popolo, più che del popolo, ormai di questo uomo massa che si sta delineando, degli operai in questo caso, dei minatori, di questa povera gente che ormai è costretta a vivere in condizioni terribili, addirittura dover andare appunto a morire in guerra, anche proprio per il fatto del conflitto. Però, come abbiamo detto un po', come aveva detto poc'anzi, cerca anche di, ovviamente, cambiare la situazione, quello che ovviamente deve anche essere il grande scopo della cultura, perché una cultura che sta lì arenata e che si gira i pollici non è realmente una cultura, chiaramente, eppure è semplice, è stolta, è stolta retorica, però nello stesso tempo cerca anche di non invoglia mai alla violenza, come abbiamo detto poc'anzi, di non invoglia alla rivoluzione armata, qual è invece lo slogan dell'uomo senza nome appunto, dell'ideologia, possiamo dire così, del sofista, dell'uomo massa stesso, perché se la donna ovviamente vuole cambiare queste condizioni terribili dell'umanità, ma in realtà lei vuole semplicemente anche che queste condizioni mutino, ma non perché poi debba prevalere un altro tipo di, un'altra classe sociale che schiacci poi quella di prima, quanto il fatto che ad esempio quando c'è il dibattito iniziale sul fatto che ormai le macchine stanno completamente distruggendo l'essere umano, lo stanno schiavizzando proprio le fabbriche, quello che sappiamo, quello che si metterà in moto nel novecento, la donna certo non è che invita a distruggere le macchine, qual è invece il monito della furia popolare che vorrebbero prendere e distruggere tutto, quel tipico atteggiamento ovviamente di una massa disperata, inferocita, quanto il fatto che quello che dice invece la donna è proprio il contrario, nel senso dobbiamo fare in modo che le macchine lavorino per noi, cioè nel senso utilizziamo anche quello che c'è di buono in questa società per far sbocciare realmente una nuova umanità, una nuova umanità che non può chiaramente delinearsi attraverso la follia, attraverso la violenza, attraverso la morte, attraverso quindi un'altra volta la guerra, la guerra di tutti contro tutti, o la guerra dei buoni contro i cattivi, infatti poi vorrei leggere anche alcune scene finali, proprio verso la fine anche di quest'opera. La vera rivoluzione è tale quando gli esseri umani comprendono di essere tali e cominciano anche a, tra virgolette, aiutarsi, aiutarsi a vicevice, vicendevolmente, cominciano anche a non voler per forza credere che la vita sia soltanto nella ricchezza o che sia soltanto nello schiacciare il più debole. Insomma, sono tutti quei discorsi, chiaramente tipici di una concezione etica e morale e culturale anche, potremmo dire così, della vita, che invita quindi a vedere anche nella società non il luogo della competizione, come invece purtroppo è avvenuto nella modernità, ma il luogo della comunità. Perché, come dice appunto il personaggio meraviglioso di questa donna, appunto della donna, è appunto il fatto che soltanto attraverso la concezione di un nuovo tipo di uomo, del vero uomo in realtà, di quello che l'uomo è sempre stato, ma che poi purtroppo a causa della sua debolezza, a causa della cattiveria, anche a causa del male che spesso riesce ad imbrogliarlo, perché appunto anche, è interessante, ci sono anche queste contrapposizioni, perché da una parte troviamo questi ufficiali, queste guardie, che sono convinte di far del bene perché difendono gli interessi dello Stato. E quindi loro credono di fare il bene della nazione, ovviamente, di agire in modo giusto. Dall'altra parte, appunto, troviamo questi operai arrabbiati, inferosciti che anche loro vogliono, quindi vogliono combattere per difendere gli interessi, questa volta, come ho detto, della massa. E quindi anche loro sono convinti di far del bene. Il problema è che non si rendono conto entrambi che stanno, che per fare questo fantomatico bene si ricorre poi a che cosa? Alla violenza, alla morte, all'uccisione, alla guerra, come abbiamo detto poc'anzi. Ed è proprio questo, infatti, il grande tranello dell'ideologia, che, come abbiamo visto, attraverso la figura quindi dell'uomo senza nome di questo individuo che, appunto, viene completamente sovraschiacciato anche perché la figura dell'uomo senza nome è anche quella figura dell'uomo politico che si delinea nel Novecento, cioè di un uomo che preferisce al contrario, piuttosto che preferisce, appunto, calpestare completamente gli ideali, i bisogni dell'uomo, calpestare, distruggere l'individuo. Non è un caso che, infatti, proprio l'uomo massa, quest'uomo senza nome, dice l'uomo non esiste, esiste solo la massa. I bisogni del singolo non contano niente, contano soltanto i bisogni della massa, ma la massa in sé non esiste. E anche questo è il grande. La massa non è altro che un molo che gigantesco, come dice la donna, divoratore di uomini, divoratore di carne umana. È come se fosse una macchina messa insieme, sì, formata da diversi individui, ma che poi si divorano vicendevolmente, uccidono uno, tra l'altro, non è un caso che è proprio quello che avverrà poi nelle rivoluzioni quando gli stessi rivoluzionali si faranno fuori l'uno con l'altro, verranno uccisi, si cominceranno ad uccidere a vicenda, sempre in nome di questa rivoluzione o comunque in nome dell'ideale. Cioè, se non si capisce che la società è giusta, è una società che è una comunità, dove ogni essere umana ha il proprio posto, dove ogni individuo viene valorizzato in quanto tale, proprio perché è un uomo, è questo che le ribatte continuamente. Io amo l'uomo, quindi amo anche la massa, certo, perché è composta da uomini, ma non posso tollerare che la massa, in nome di se stessa, compia quello che sta compiendo, cioè che faccia mattatoio del mondo intero. Ed è un po' questo anche il discorso che Stoller cerca di sottolineare questo pacifismo, chiaramente, che non è però il pacifismo della non violenza, appunto, di quella politica, chiaramente anche gandiana, che successivamente si affermerà, quanto quella logica stessa che non può nessun tipo di ideale, di esitale o più importante dell'uomo e della vita. Nel momento in cui un ideale è capace di disprezzare, di distruggere la vita in nome per difendere il proprio interesse, quell'ideale è un ideale di morte. Interessante anche il fatto che qui troviamo ad esempio la figura anche del sacerdote verso la fine dell'opera, dell'apis, quando questo prete entra in scena e comincia a dire che l'uomo è malvagio, invece, comincia a dire esattamente il contrario, l'uomo è cattivo, l'uomo non può fare del bene su questa terra perché c'è sempre stato il male, il paradiso, l'unica possibilità che ha l'uomo è quella di in qualche modo aggrapparsi a Dio. Quindi si torna in fondo anche alla logica, vogliamo dire così, marxista, diciamo, di un uomo che non deve agire, che deve in qualche modo anche sentirsi arrendersi al fatto che la realtà è questa e non potrà mai essere cambiata. Invece il personaggio della donna continuamente dice io credo, io credo nell'uomo, io credo nell'uomo. Prima o poi l'uomo riuscirà, ma riuscirà non nel senso appunto attraverso la violenza, attraverso l'ideologia, attraverso le frasi fatte, attraverso lo slogan, attraverso la massa che passa sopra tutti, che distrugge qualsiasi cosa, lì sia la scena quando appunto la massa inferocita riesce ad uccidere addirittura questi prigionieri che si erano arresi e comincia a fucilarli uno dopo l'altro, esattamente quello che facevano con gli operai prima, i soldati. Quindi ci rendiamo conto di come infatti la figura di quest'uomo mostruoso anche di questa figura dell'uomo senza nome della massa che è nemica dell'uomo che afferma continuamente violenza significa violenza cioè quindi noi se in fondo anche l'insegnamento fondamentale anche potremmo dire così dell'etica anche del cristianesimo e anche proprio quella di non che davanti a uno schiaffo non dico porgere l'altra guancia ma magari non restituire quello schiaffo non restituiamolo non rispondiamo al pugno con la spada o con il bastone perché altrimenti violenza suscita e aumenta la violenza soprattutto invece si viene a delineare come ho detto l'ideologia questa contrapposizione che viene poi ad alimentare questa babele questa confusione quest'odio che in realtà è presente verso la vita perché nel momento stesso in cui tutto diviene mercificato tutto diventa massa come oggi viviamo nell'epoca della massa dove appunto qualunque essere umano può tranquillamente essere licenziato in un luogo di lavoro tanto verrà sostituito da un altro per parlare adesso del campo del lavoro può benissimo morire non ce ne può fregare niente di nessuno perché tanto come dire siamo così tanti che neanche ce ne accorgiamo questa indifferenza poi che la massa alimenta che è data chiaramente anche dal numero dalla logica del lamento demografico che come abbiamo visto sta trasformando il mondo in una fucina infernale in uno zoo dove ognuno si dove vige unicamente l'indifferenza o l'odio in alcuni casi di certo non più l'amore infatti il personaggio della donna è anche un personaggio che chiaramente avrà la sua fine verrà poi chiaramente condannata dall'uomo massa da quest'uomo senza nome che la vedrà appunto come la classica reazionaria che vuole difendere gli interessi dei borghesi e quindi deve essere ammazzata un'altra volta quindi la vera rivoluzione se non parte dalla nobiltà d'animo se non parte dalla cultura se non parte dal bene reale e non dal bene apparente potremmo dire così chiaramente diventerà soltanto una guerra diventa soltanto una dittatura come abbiamo visto poi nella storia quello che è stato è interessantissimo il fatto che Tore scrive questo testo nel 19 quando ancora comunque gli effetti della rivoluzione bolshevica non erano chiari in Europa ancora in quello in un testo di una modernità ancora una volta di una lungimiranza oserei dire spaventosa come sempre d'altronde quando parliamo dei grandi autori questa è anche la grandezza dei libri quello che diciamo sempre la grandezza di leggere questi libri di andare a riprendere questi testi così importanti che ci fanno capire anche l'epoca in cui viviamo dove a volte si sente ancora questi discorsi si sentono questi discorsi sull'ideologia sulla rivoluzione a volte magari ecco in un modo diverso su questa idea anche che sia giusto uccidere il nemico perché appunto un nemico deve essere in qualche modo eliminato per far spazio alla all'idea nostra quindi dove non si tollera minimamente la presenza dell'altro o comunque anche di uccidere chi ci ha fatto del male invece la vera nobiltà è anche quella di sapere tra virgolette non dico accettare questo stato di cose ma anche lo stato di cose che ci si presenta ma anzi denunciarla attraverso la cultura quello che la cultura ha sempre fatto denunciare questi scandali anche denunciarli ma questo non significa poi scendere in piazza e mettersi a spaccare tutto e anche questo è il grande insegnamento che chiaramente questo testo meraviglioso ci sta dando ma vorrei leggere velocemente qui è proprio il passaggio quando c'è questo dialogo tra la donna e l'uomo massa appunto l'uomo senza nome anzi vuoi dire il senza nome e qui dice l'uomo non esiste da questa parte gli uomini della massa dall'altra quelli dello stato e la donna risponde l'uomo è nudo il senza nome la massa è sacra e la donna continua la massa non è sacra creatura di violenza creatura di ingiustizia istinto scatenato dal bisogno umiltà fiduciosa crudeltà di vendetta o tenebrato servaggio benevolenza pietosa la massa è campo calpestato è popolo sepolto è il senza nome qui che continua a ripetere che il fine ultimo dell'uomo ad esempio è l'azione l'azione bisogna agire bisogna anche il tipico motto ovviamente che poi troviamo ancora oggi nel discorso anche di molti e lei dice appunto tu non sei libertà non sei riscatto so bene io chi tu sei uccidi null'altro che uccidere il padre tuo si chiama guerra e tu chi sei bastardo non sei che un altro sbirro di carnefici morte e sterminio non conosci altri rimedi getta il tuo manto di belle parole rimarrà una spenta chimera voi uccie e poi continua qui a dire perché appunto il senza nome qui le risponde combattevano per lo stato degli oppressori parlando ovviamente dei soldati noi combattiamo per l'umanità questo è il discorso che infatti troviamo spesso nelle parole dell'ideologia nelle parole dei demagoghi quelli sono i nemici perché quelli combattono per lo stato noi combattiamo per l'umanità e la donna risponde voi uccidete per l'umanità così come altri ciechi vi uccisero per il loro stato e ve ne erano di quelli che credevano di liberare la terra col loro stato con la loro patria non scorgo alcuna differenza gli uni uccidono in nome di un paese gli altri per tutti i paesi gli uni per mille uomini gli altri per dei milioni quelli che uccide in nome dello stato lo chiamate carnefice quelli che uccide per l'umanità cincete di lauri chiamate benemerito morale nobile grande sì di te santa buona la violenza e poi lei continua dicendo a strana nuova terra tu ci avvii alla terra dell'antica schiavitù se il destino ti ha spinto in questo tempo e ti promette il potere di usare violenza a quei che disperati ti attendono come nuovo redentore allora certo il destino odia l'uomo e il senza nome risponde infatti la massa conta e non l'uomo tu non sei la nostra eroina la nostra guida ciascuno soffre il morbo dell'origine e tu reghi impressi i marchi del borghese autoinganno e debolezza infatti poi quando la donna giustamente gli risponde tu non ami gli uomini il sesso a nome infatti risponde di nuovo l'insegnamento innanzitutto io amo i futuri e la donna ribatte alla fine l'uomo innanzitutto infatti è proprio questo anche il bel paradosso dell'ideologia è della massa la massa detesta l'uomo non ama nessun tipo di uomo perché la massa è anche quella forma completamente amorfa quella forma organica che si viene a sviluppare che poi chiaramente oggi ci ha quasi completamente invaso di individui ormai asettici di individui creati squadrettati a tavolino che non hanno più capacità di pensare che non hanno più capacità neanche di liberlarsi davanti a sigli di situazioni non è un caso che qui proprio la donna contrasti il personaggio dell'uomo senza volto affermando che questa massa ci condurrà alla condizione dell'antica schiavitù noi in fondo oggi viviamo esattamente questa condizione pensiamo che cosa è diventato oggi il lavoro che milioni di persone che devono alzarsi ogni giorno per timbrare un cartellino per tutta la vita fino ad aspettare 70 anni per poi sperare di andare in pensione forse neanche quello molti apranno il fatto che ormai siamo riusciti a trasformare questo mondo in una grande fabbrica potremmo dire così una fabbrica in un formicaio di insetti e non più in una comunità di uomini una comunità di esseri umani dove quindi viga anche l'etica dove viga la cultura dove viga la morale purtroppo non è un caso che la massa infatti passa sopra tutti questi diritti fondamentali la massa è capace di distruggere qualunque forma di distruggere qualunque forma di bellezza qualunque espressione di vita sarebbe a vedere che il nostro è anche l'epoca ma vediamo della dissagrazione di qualunque forma di antico valore proprio in virtù di un bene pratico apparente per raggiungere quel misero scopo quel pezzo di pane in più quello stipendio leggermente alzato si è capace di passare soprattutto a tutti ecco perché infatti noi oggi viviamo probabilmente in quella che è l'epoca della massa nel senso che è l'epoca anche della schiavitù universale perché oggi nessuno si può tra virgolette tirare indietro da questo gioco ed ecco che Ersteole in realtà in quella fantomatica rivoluzione in quegli ideali così tanto sparati ai 420 dove si credeva realmente di liberare l'uomo in realtà c'era il più grande tranello che si potesse mai concepire cioè era soltricemente quella chimera quella maga circe che non soltanto non ha minimamente liberato l'uomo ma lo ha trasformato in una bestia ancora peggiore di quella che era ed infatti anche un'altra volta il rischio dell'ideologia ma soprattutto il rischio della massa è che la massa disprezzando l'essere umano disprezza se stessa disprezzando se stessa non riesce più ad intendere se stessa come uomo in quanto essere umano e quindi non fa altro che agire meccanicamente non fa altro che agire in maniera anche impersonale seguendo sempre il peggio non è un caso che oggi lo troviamo la storia del novecento non è una chiara dimostrazione non abbiamo il secolo delle masse il secolo che ha prodotto le guerre più terribili della storia i totalitarismi peggiori ha prodotto quello che vediamo che ancora oggi purtroppo ci troviamo a vivere interessante anche quando la donna afferma proprio che le macchine la tecnica che oggi chiaramente ci sta distruggendo e so piantando se messa al servizio dell'uomo potrebbe anzi essere una grande alleata peccato che come sempre tutto quello che viene travolto distrutto annientato inquinato dalla massa diventi altro si trasformi poi in qualche modo in quel moloc in quel dio carnefice che è semplicemente assedato di carne umana e di sangue e questo oggi lo ritroviamo praticamente ovunque dove non soltanto la condizione degli schiavi del lavoro anche della vita che svolgono ormai quasi il 90% dei comuni mortali su questa terra è quella che vediamo di persone che devono correre a destra e manca sperando di poter ottenere un briciolo di pane un piccolo posto di lavoro o magari un luogo dove poter vivere la vita è divenuta appunto frenesia azione frenetica esattamente quello che diceva il personaggio dell'uomo senza nome quando la vita diventa unicamente azione quando non c'è più tempo per la riflessione non c'è più tempo per il pensiero soprattutto non c'è più tempo per l'uomo in questo caso infatti oggi il dialogo è scomparso proprio perché viviamo nel mondo della massa nel mondo del niente potremmo dire così del nulla indefinito nel mondo dell'innominabile anche nel senza nome perché i senza nome oggi sono ad ogni angolo della strada sono dappertutto non è un caso che poi Stoller dopo questo testo fondamentale come detto che avrà che sarà amato come ho detto da tantissimi grandi autori Adorno ad esempio lo citerà continuamente in molti dei suoi testi verrà apprezzato tantissimo anche da Elias Canetti da tutti i grandi pensatori ovviamente dello scorso secolo Stoller avrà anche una vita tragica perché poi verrà anche perseguitato dai nazisti proprio a causa anche delle sue idee ma soprattutto per la sua origine proprio perché lui era di origine ebraica e dovrà fuggire poi negli Stati Uniti dove poi morirà a New York nel 1939 questo testo l'uomo massa del 1920 che il prossimo anno compierà 100 anni praticamente vediamo che la condizione non soltanto non è mutata neanche di un millesimo ma oggi la cosa ancora più grave è che non abbiamo testi che rappresentino il nostro tempo autori del genere una cultura che come abbiamo visto nei primi del novecento nei primi vent'anni nel primo trentennio del ventesimo secolo riusciva anche a far fronte a quelli che erano i problemi essenziali dell'epoca attuale in quell'epoca oggi noi viviamo in una condizione dove siamo ancora più impoveriti perché non abbiamo più queste figure che ci in qualche modo rappresentino ecco perché è fondamentale andare a recuperare un testo come l'uomo massa anche per capire la grande lezione che la letteratura teatrale soprattutto come abbiamo visto nel novecento ha saputo dare al mondo occidentale anche proprio nel capire quelli che erano i problemi imminenti e soprattutto per comprendere un'altra volta come il nostro tempo che si dice tanto evoluto tanto progredito in realtà è esattamente il mondo che ha descritto perfettamente Ernst Ruller in questo testo che ha quasi cento anni grazie grazie a tutti grazie a tutti